bravissimi cosa mi voglio premi il bottone al via e se lo premo ora ragazzi qualcuno qui si è dimenticato di regalare un mazzo vero quindi sarà il primo a morire qui allora ragazzi venite qui bisogna fare le tattiche facciamo le tattiche facciamo allora prima di tutto chi è conveniente incontrare e chi se si incontra è meglio evitare censura ok però della serie tesla non è per le alleanze ti viene subito lì no invece gabbo non lo so eh gabbo secondo me è appunto però però si potrebbe fare che raga si fa l'alleanza e la prima la prima cosa si inizia a beccare io direi fare così cioè gabbo fregarlo in questo modo se si trova si fa no gabbo viene si fa ma dopo tipo 5 minuti subito a botte a botte subito boom così si leva si leva subito anzi non so nemmeno con chi è in squadra gli azzurri bisogna cercare gli azzurri e fare una squadra da 8 secondo me secondo me te la te la fanno in 5 se c'è anche loro sono d'accordo zona principale colli caramellati quindi secondo me ragazzi noi andiamo a colli caramellati perché è in basso la mappa ok perfetto allora colli caramellati zone principali strutture con mob spawner custom e casse customizzate ad ogni team è assegnata una zona principale da visitare noi abbiamo ci hanno assegnato colli caramellati ok basi dei team aspetta strutture con ceste per iniziare e grotta già pronta per iniziare a scavare quindi vuol dire che noi siamo visto che ci hanno dato a colli caramellati o a pacco regalo a veliero vicino uno delle due vai dimmi dimmi ma hai sbrindellato gli scocones andiamo da qualche parte si va e io la voglio la vinca capito la voglio la vinca ci siamo via via alla clicca c'è proprio poco è mamma mia sì 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 no non c'è nemmeno un albero per le mele perché sono tutti abiti non le danno le mele porcaccia maledetti fermi fermi perché qui stai spaccando le scale ma aspetta ma sopra c'è qualcosa non credo aspettate sai come lo so no ragazzi dai ma no ogni ogni hc così ho preso mezzo cuore niente non ci si fa non ci si fa non ci si fa ragazzi a non diventare iron maledetti dobbiamo andare verso di là per prendere i colli così almeno abbiamo cose guerra di là bisogna andare di là quindi andrei subito ragazzi facciamo una corsa vabbè prendo giusto qualche altro blocco e arrivo se ci perdiamo è la fine infatti aspettate fm che così prendiamo faccio anche io no chi è che si è fatto male ho perso mezzo cuore no ok non vi sento più ragazzi sono lontanissimo sono lontanissimo cos'è quella cosa lì cos'è quella cosa cos'è quella cosa laggiù che mi sta venendo addosso cos'è quella cosa cos'è quella cosa laggiù aiuto 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 su non mi ascolta aiuto non mi sta più seguendo mamma mia mi sono salvato aiuto ma siete alla nave ok 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 no perché c'è ragazzi laggiù c'è un creeper strano è tutto bianco oh no no mamma mia no 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 Meglio non darci Io direi una cosa Utilizziamo la nave come appunto di Di ritrovo Diciamo E tipo voi due Cominciate ad andare sotto Trovate Roba io vado a cioppare altri Cioppa Cioppa tutto Vai No no cosa c'è che mi ha tirato No 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 C'è una strega Via 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 Porca puttana No no aiuto Via 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 Scappa 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 Ah 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 il culetto Il culetto No 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 Mi vuole incantare il culetto Mi vuole incantare il culetto No ragazzi bisogna andare via da qui Cioè è meglio andare alle ceste E non andare in miniera secondo me Dai andiamo laggiù ragazzi Andiamo a colli A colli caramellati Lì dentro c'è quel Bellissimo creeper bianco Cioè non so davvero cosa sia Dovremmo affrontarlo secondo me Ma secondo me è un normalissimo creeper di Natale I famosissimi creeper di Natale Oh 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 Merry esplosioni Jack è tipo È già fantasma Non so per quale motivo Ma è evaporato Jack Non so che ti ha fatto Ah no no Non c'è più Va bene Ce la faremo in tre ragazzi Ce la faremo in tre Ma se tipo lo scriviamo in chat Perché non No Ma cosa Porca puttana Ma forco il demonio Ma un blocco e basta Ero qui Lo so Lo so È una fregatura sto fatto Raga comunque dovremmo avvisare Tesla Del fatto che Mino è evaporato No Io non sono evaporato Io sono qua E' uno scherro Piano E' uno scherro Scappa 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 Ora sarei becca a me A caso Ok È come Mino No come Mino No come Mino Basta 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 Sì fra cinque minuti Fra cinque minuti Ce la faremo in cinque minuti A trovare un po' di carbone Dai dico di sì Ma il carbone ce l'ho Io vorrei del ferro No scusami Hai ragione che Volevo dire ferro Volevo dire ferro Eeeh Vabbè Cosa Cosa Ed è E si va nelle profondità Della terra Che roba Bello Che roba Non spingete giù Piano No 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 Piano 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 buono buono Ce la facciamo Piano Vaghi avanti lei Signor Mino È piano Piano Perché già qui Ho già perso un cuore Già tanto È pericoloso Stavo per una cazzata Stavo per una cazzata Mamma mia Non la fa No ho finito Ho finito tutto No aspetta C'è il ghiaccio Ma il ghiaccio Attenzione Ora si scivola Come lo vedo già Che si scivola Però se faccio così Ah no Ok niente Pensavo Ci potessi mettere Un po' Di acqua Ma invece Il ghiaccio Ma qui Dove si va No 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 Che la prima Me la prendo Io Prenotata Prenotata Ma ragazzi Ma davvero Ma cosa c'ho oggi Eeeh Volevi Eeeh Mamma mia Eh non lo so Infatti stavo già per cadere anche lì Ok C'è un creeper bianco Censura E invece io ci vado in connetto Ormai il danno è fatto Si fa Non lo vedo Non ho una bella idea Vieni Uh guarda bello però Guardalo fiero Come stai Cos'è No ma ragazzi Voglio questa Texture Bellissimo Mi si è rotto il piccale Preso Aia Ho perso Mino No ho perso Ben tuo cuore Ma porco il demonio satanico Ma come avete fatto Ma che cazzo Ma era lontanissimo Eh Voglio dire Siamo senza scudo Cerchiamo di trovare Ok Ok Hai ragione Non pensavo davvero È così È così difficile L'ho L'ho Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Ok Allora Bellissima Bellissima Ringrazio C'è del ferro Sì 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 È arrivata È arrivato il ferro Meno male Vai Si cosce subito Come solo uno No via Signor Fedeg96 Lei Del Del gruppo Della 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 Censura Ma che ne so Ma porco Non so se le hanno fatte Con un programma O a mano Credo con qualche programma Però Ok Vabbè Allora Io non ho partecipato Entiti 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 Facciamo così Iniziamo a mangiare Perché tanto qua Siamo messi bene bene Ecco Infatti Infatti Si muore male Si muore male Si muore male No un po' ce l'ho Però Attenzione 16 e 52 5 56 57 8 9 E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao